Sono arrivati ieri sera intorno alle 21 nel porto di Bari con oltre 12 ore di ritardo i 196 passeggeri della nave Ancara che mercoledì notte è entrata in rotta di collisione con il mercantile maltese Reina 1 affondato subito dopo la collisione. Triste il bilancio dell'incidente, due superstiti, tre morti e cinque dispersi, tutti membri dell'equipaggio del mercantile che da una prima ricostruzione non avrebbe dato la precedenza alla nave passeggeri. Dopo la paura e il viaggio estenuante i passeggeri dell'Ancara partiti da Durazzo e diretti nel capoluogo pugliese hanno raccontato come hanno vissuto quei drammatici momenti. La nave è andata giù subito, uno minuto, uno minuto e mezzo è andata giù. Sta dormendo con i bimbi, con la stanza, è venuto così tutti sopra, le cose, il letto e tutto. Spaventata? Sì, un po' sì, i bimbi pure. Io ho sentito un rumore grande, siamo usciti fuori, abbiamo già visto due barche che stanno già, l'aveva preso già metà, lui quando sono andato indietro lui si è andato giù. Abbiamo visto tutte le persone quando sono buttati giù tutti. Una paura da Dio. Sulle cause della collisione e l'esatta ricostruzione dei fatti non ci sono ancora notizie certe. Le autorità albanesi hanno deciso già da ieri di interrompere le operazioni di ricerca, poiché sostengono è troppo tardi per recuperare qualche membro dell'equipaggio del mercantile ancora vivo. La Capitaneria di Porto di Bari ha acquisito le registrazioni di bordo che verranno affidate all'autorità giudiziaria turca che ha aperto un'inchiesta.